Molise a calci in collaborazione con design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo uscita a Civitanova del Sannio L&T Insurance Broker SRL via Monsignor Bologna 56 Campobasso broker di assicurazioni Buonasera e ben ritrovati amici di Telemolise amici in questo modo particolare di Molise a calci naturalmente è trascorsa un'altra domenica e noi siamo pronti ad analizzarla come sempre il lunedì, questa settimana ci sono io perché il padrone di casa Gianni Bruno è andato in viaggio tecnico al Centro Sportivo Federale di Coverciano, dunque fortunato lui che è andato nella sede della FIGC, nella sede appunto del calcio, di ciò che seguiamo e di ciò che ci piace. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, prima di ad entrarci nei discorsi calcistici vi presento subito gli ospiti di questa sera, abbiamo Roberto Barrea e Antonello Paolo Antonio, saluto prima Roberto Barrea che è stato praticamente fino a qualche giorno fa il preparatore atletico dell'Isernia, è stato anche al Campobasso ai Lupi Molinari, insomma tantissime esperienze, Roberto dunque si è chiusa questa parentesi con l'Isernia per te. Sì purtroppo sì, devo dire a malincuore si è conclusa per cause non addebitabili a noi purtroppo, questa crisi societaria che ha corpito il Presidente Monfreda ci ha costretto purtroppo a tirare i remi in barca ti ripeto ci dispiace perché si era creato un bel gruppo i risultati stavano arrivando però purtroppo è stata stroncata sul nascere questa esperienza Ecco, avremo modo naturalmente di approfondire più avanti con te questo discorso proprio sull'Isernia io presento e do la buonasera anche ad Antonello Paolo Antonio difensore centrale del Casalericcia giocatore di comprovata esperienza nel massimo torneo regionale e esperto di calcio in generale buonasera Antonello Buonasera, grazie dell'invito per voi del Casalericcia è arrivata la prima scoperta confitta ieri proprio della gestione Longo un 2-0 maturato in trasferta da Alife Sì purtroppo c'è stato il primo passo falso della nuova gestione risultato che purtroppo ci può stare perché abbiamo affrontato una buona squadra che tra le mura munche fa sentire tutta la sua fisicità purtroppo non ci voleva perché avevamo fatto un bel filotto di vittoria volevamo risalire la classifica adesso le ultime due settimane abbiamo totalizzato un punto solo e vediamo di ripartire alla grande già la domenica prossima naturalmente anche con te potremo approfondire andando avanti ma iniziamo il nostro percorso iniziamo naturalmente dalla Lega Pro il Campobasso ha colto una vittoria importantissima contro la Versa Normanna vittoria maturata in condizioni abbastanza climatiche difficili con la neve ma ciò che contava erano i tre punti vorrei dare subito uno sguardo alla classifica appunto del campionato di seconda divisione di Lega Pro proprio per sottolineare questa vittoria per il Campobasso che come vedete appunto sale a quota 12 tiene la Versa Normanna a due punti a un tiro di schioppo e adesso può guardare al proseguo del campionato perché lo ricordo ci sarà domenica prossima la trasferta a Fondi e poi si chiuderà il 22 dicembre in casa contro il Melfi dunque ancora due gare abbordabili due gare per migliorare la situazione che si era davvero compromessa con la gestione in bimbo Multineddu ma proprio per quel che riguarda la gara di ieri andiamo a sentire il parere dagli spogliatoi del tecnico del Campobasso Vullo e della Versa Normanna Nico Romaniello Vittoria voluta voluta da questi lupetti che veramente oggi hanno riconquistato un po' di orgoglio hanno riconquistato un po' di goliardia perché questa era una delle cose che mancava secondo me in mio punto di vista naturalmente perché poi ci possono essere tanti pensieri però secondo me questa era una squadra che non aveva grande forza nel senso non contrastava si staccava sempre dalla palla c'è un crescento da questo punto di vista e oggi in un campo difficilissimo come quello giocando sulla neve prima scherzando ha detto che sembravamo dei trattori abbiamo spianato la neve è significativo è una battuta ma è significativa perché i ragazzi oggi hanno veramente dimostrato di crederci e dobbiamo continuare su questa strada perché non ha anche la Versa si è battuta io non posso non penso mai agli altri da questo punto di vista io credo che si sono battuti noi abbiamo avuto la possibilità la bravura probabilmente di mettere a segno un gol bello perché è stato voluto un cross e una deviazione di Samir fatta bene e poi abbiamo saputo difendere questo risultato quindi questa è la cosa che mi lascia sperare che è significativa per questa gara mister Romaniello vince il campo basso 1-0 secondo lei è stata una vittoria meritata? ha fatto un gol più di noi è chiaro che magari avremmo potuto noi bloccare prima la partita ma siamo stati proprio ingenui molto molto ingenui prendere gol da una rimessa laterale anche perché comunque fino a quel momento stavamo giocando noi abbiamo cercato noi di fare la partita anche su un campo del genere in cui secondo me non era possibile giocare però poi l'arbitro ha deciso di farci giocare è chiaro che va in difficoltà in un campo del genere la sua squadra si è battuta però possiamo dire che ha creato meno pericoli rispetto al campo basso? no non credo penso che comunque il campo basso solo la prima volta quella volta sull'occasione del gol è venuto in avanti poi il primo tempo non abbiamo avuto altre occasioni anzi forse noi dovevamo essere più più cattivi in qualche occasione poi il secondo tempo ci siamo come al solito sbilanciati perché abbiamo messo un attaccante in più e loro in ripartenza hanno avuto qualche diciamo qualche ripartenza dove potevano farci male però non credo che abbiano avuto la supremazia del gioco ed ecco abbiamo visto naturalmente un Romaniello un po' contrariato in particolare per le condizioni climatiche ma chiedo a Roberto Barrea naturalmente poi il campo ha parlato la Versa ha perso per il campo basso sono davvero tre punti fondamentali sì assolutamente tre punti importantissimi anche in previsione degli scontri prossimi che ci saranno al di là della classifica comunque è una vittoria che alza ancora di più il morale dopo i precedenti due risultati positivi io spero che appunto questo morale alto che ha portato Vullo e le vittorie naturalmente che sono venute possono far affrontare i fondi nel miglior modo possibile sicuramente una vittoria farebbe aumentare di molto le possibilità di salvezza del campo basso ecco va detto che il campo basso è in serie positiva tre partite sette punti non si erano mai visti perché ricordiamo con Inbimbo c'era stata la vittoria alla prima giornata poi una serie di pareggi per tornare a vincere proprio con Salvatore Vullo a tal proposito chiedo ad Antonello tu sei anche un po' un esperto di dinamiche di gruppo era un campo basso in fondo alla classifica ormai quasi spacciato adesso c'è voglia c'è voglia di lottare c'è voglia magari di credere in questa salvezza che due o tre settimane fa era veramente impensabile ma sì ma in queste condizioni bisogna sempre restare tranquilli voglio dire il ciclo precedente con mister Inbimbo di certo non aveva portato i risultati sperati e la situazione sembrava gravemente compromessa però quando poi si rigenera un attimo la situazione si riescono a trovare nuovi stimoli bisogna essere equilibrati prima non bisognava disperarsi troppo questo è un compito della società adesso bisogna restare uniti forse hanno trovato quel qualcosa in più che gli fa rendere in campo non lo so forse mister Bull ha portato quello stimolo in più che rende il gruppo più compatto adesso devono restare così uniti e andare avanti con la consapevolezza dei propri mezzi se prima eravamo ultimi in classifica adesso di certo non potremmo essere i migliori della classe devono calarsi in una mentalità salvezza e affrontare ogni partita come se fosse una finale e comunque insomma va detto che con Bullo e Ciccone sono arrivati comunque giocatori di un certo spessore perché appunto di vicino poi chiederò naturalmente a Roberto di vicino lo stesso Lae che va assegnato è arrivato Petrassi è arrivato qualche ragazzo che si sta ben comportando dunque dico proprio a Roberto Barea che l'anno scorso è stato protagonista insieme a Mister Logarzo della cavalcata dell'Isernia Playoff è giocato proprio contro Giorgio Di Vicino è un giocatore in grado di estrarre la giocata dal cilindro un giocatore importante anche da calcio piazzato sì questo sicuramente i 3-4 innesti che ha fatto il Camo Basso sicuramente hanno innalzato il livello tecnico e si vede anche dai risultati il Camo Basso ne aveva proprio bisogno perché la Rosa come era messa precedentemente non credo potesse essere competitiva per quanto riguarda Di Vicino io già ne parlai qualche settimana fa quando si parlava appunto del suo arrivo e avevo già detto che comunque ma non lo scopro io sicuramente è un giocatore tecnicamente superiore ottimo per la categoria io l'ho incontrato l'anno scorso in Dico la San Benedettese in Serie D effettivamente faceva proprio la differenza quindi io penso che sia un giocatore che ti possa dare qualcosa in più al di là della salvezza proprio per andare più spesso in gol quindi io penso che lui sia in grado di mettere dei palloni molto interessanti per gli attaccanti e di essere anche decisivo sui calci piazzati e speriamo bene speriamo bene appunto anche per domenica prossima una vittoria a fondi sarebbe assolutamente importante per la salvezza del campo basso e noi ce lo auguriamo scendiamo di categoria andiamo nel campionato di Serie D qui per le Molisane diciamo il Termoli non ha giocato ha perso Lisernia ha pareggiato l'Olimpia Agnonese possiamo vedere un attimo la classifica perché l'Olimpia Agnonese ha pareggiato fuori casa Iesi Lisernia ha perso contro il Città di Marino ma ci sono appunto delle condizioni che andremo a vedere mentre il Termoli come possiamo vedere è a quota 28 non ha giocato in casa contro la Miternina per via del Vento Termoli che comunque ha 5 punti in meno del San Cesario che ieri ha espugnato Ancona con il risultato di 4 a 2 dunque è un Termoli che è in corsa sicuramente per il campionato ricordiamo il Termoli le ha suonate di santa ragione al San Cesario alla seconda giornata battendolo per 3 a 0 questo la dice lunga un po' sui valori noi però andiamo a sentire proprio Mimmo Giacomarro non si è giocato ma noi lo abbiamo sempre avvicinato con il nostro Pino Somma Mister Giacomarro non c'erano proprio i presupposti per poter giocare sì hanno deciso così la terna arbitrale penso che sia giusto sia per l'incolumità dei giocatori che andavano in campo sia perché non c'era la temperatura idonea anche per giocare questa partita la scelta l'avete accettata di buon grado le scuole che devono fare partita che devono vincere le partite con un tempo del genere vanno in difficoltà perciò penso che sia giusto questa decisione e anche a noi sinceramente fa comodo adesso la squadra si sta allenando comunque sembra che non si giocherà direttamente mercoledì adesso quindi pensate già la gara di domenica prossima a Pescara con l'arrenato core ma è questo abbiamo una settimana per pensare a questa partita in trasferta che come Amitardina e San Nicolò sono le ultime partite del giro d'andata dove dobbiamo cercare di fare di fare i punti e cercare di rimanere sempre al ridosso delle prime è una squadra competitiva assai adesso quella del Termoni sono arrivati i rinforzi che chiedeva è arrivato anche qualche under insomma i presupposti sono buoni per il 2013 per cercare di arrivare ancora più in alto in classifica sì abbiamo fatto una squadra all'inizio per cercare di rimanere sempre sul lato sinistro della classifica adesso che siamo a due punti anche noi vogliamo essere partecipi e essere gli attori principali in questo campionato speriamo bene speriamo che anche l'integrazione di questi nuovi avvenga nel migliore dei modi e poi sarà sempre il campo a decidere le sorti del nostro futuro il mercato è chiuso adesso no? penso che abbiamo bisogno ancora di qualche under in mezzo al campo soprattutto perché adesso abbiamo cambiato il modulo perciò da queste 10 partite abbiamo visto che magari c'è qualcuno del 4-4-2 che potrebbe anche cambiare casacca e qualche altro che potrebbe arrivare e dunque questo il commento di Mimmo Giacomarro chiedo naturalmente a Roberto Barrea un Termoli che già si è rinforzato con l'arrivo di Fusaro tu conosci benissimo era a Redisernia fino a qualche giorno fa è arrivato anche il centrocampista Mandorino qualche fuoricuota è un Termoli che a questo punto deve per forza di cose puntare a lottare per il vertice sì il Termoli era già una squadra competitiva prima poi non ti nascondo che quando siamo andati a giocare a Termoli ho scambiato due chiacchiere con il direttore De Filippis e non mi nascondeva che dai risultati contro l'Isernia e contro la Reganatese dipendeva poi il futuro mercato effettivamente queste due partite sono state vinte il direttore è stato di parola ha fatto degli ottimi acquisti oltre agli under ha preso Mandorino dalla Civitanovese un ottimo giocatore e il mio amico Fusaro che secondo me per la categoria la categoria gli sta anche stretta perché ha una grossa esperienza grossa tecnica anche se è un difensore grossa fisicità quindi un acquisto azzeccatissimo per il Termoli sicuramente il Termoli vedendo anche le altre avversarie se la può giocare tranquillamente per il titolo dunque per un Termoli che va per la massima c'è un Olimpia agnonese che ha pareggiato fuori caso un Olimpia agnonese che pareggia molto quest'anno si sta comunque ben comportando è sopra la zona play out con un margine assolutamente tranquillo dunque Antonello un Olimpia agnonese che veramente punta sui giovani molisani sui ragazzi molisani perché che ha una vita che nel Molise si vila in molisano poi abbiamo i vari Pifano Litterio è andato praticamente via a Scampamorte che era di agnone poi c'è ricamato lo stesso Partipilo e da tanti anni giusti ragazzi con un mix di giovani provenienti dal Bari anche l'Olimpia agnonese si sta comportando alla grande assolutamente ma per l'Olimpia agnonese non è nient'altro che una conferma io credo che si possa tranquillamente affermare che sia la società un modello degli ultimi dieci anni del calcio molisano perché è stata la più regolare tra tutte fa sempre il passo secondo la propria gamba evidentemente ha una struttura societaria ben solida non perdono mai di vista quali sono gli obiettivi societari e riescono ad ottimizzare le risorse che hanno sia economiche che tecniche perché i numeri parlano chiaro sono diversi anni che disputa ottimi campionati di serie D si salva tranquillamente spesso riesce ad arrivare al ridosso dei playoff ha lanciato tantissimi giovani da fondo alle risorse alle risorse locali non a caso pesca spesso anche nei campionati minori oppure nei campionati giovanili della regione credo che per l'Agnone sia una conferma se sia un po' la società da prendere come esempio per il calcio molisano chiudiamo il discorso sulla serie D parlando naturalmente dell'Isernia qui chiamo in causa proprio Roberto Barrea se possiamo dare anche uno sguardo un secondo alla classifica chiedo questa gentilezza alla regia perché la situazione come sapete è mutata vi faccio vedere la classifica perché vi ricordo che in serie D ne retrocedono due direttamente poi quattro vanno a fare play out poi c'è sempre il problema dello sbarramento ovvero più dieci punti però al momento l'Isernia ha un margine davvero risicato sulla zona play out dunque quello che chiedo a Roberto è c'è stata questa smobilitazione ieri le parole del direttore sportivo Agliano sono state praticamente nette convinte ovvero da adesso a fine anno si rischia davvero di perderle tutte non a tutti i torti perché vivendo dal di dentro questa situazione posso confermare che purtroppo non c'erano proprio i presupposti per andare avanti fa onore al presidente Monfreda il fatto di essere stato chiarissimo infatti non ci ha nascosto niente è stato molto chiaro con noi dicendo che comunque non aveva le possibilità per mantenere la squadra lo staff tecnico quindi i giocatori potevano sentirsi liberi di andare da altre parti chi ne aveva la possibilità questo però espone la società probabilmente forse una probabile retrocessione perché se non rimpiazzano questi giocatori effettivamente già la distanza dalle ultime non è enorme non è elevata quindi ci sarà da lottare fino in fondo sarà durissima e infatti sarà così e a noi naturalmente questo dispiace anche perché l'isena si stava ben comportando noi chiudiamo il discorso sulla serie D e sulla Lega Pro con il primo blocco della nostra Moviola Campionato di seconda divisione siamo sulla neve di Selva Piana quarantunesimo del primo tempo vedete la Keb che aggancia il pallone c'è l'intervento di Castaldo il giocatore con il numero 5 della Versa Normanna torniamo un attimo dietro ci siamo anche avvicinati con la nostra lente di ingrandimento ma vedete Castaldo colpisce nettamente il pallone ecco vedete questo è il momento in cui Castaldo colpisce il pallone la Keb scivola evidentemente sul pallone cade a terra ma ha fatto bene l'arbitro il signor Tardino di Milano a non concedere il calcio di rigore al trentacinquesimo del secondo tempo calcio d'angolo respinge la difesa qui andiamo piano respinge la difesa della Versa gran sinistro di Esposito che aveva già segnato il gol del pareggio a Teramo portiere Gragnanillo ampiamente battuto ma vedete la sfortuna di Esposito e del campo basso perché il pallone va ad infrangersi sul palo poi tanto era violento che rimbalza addirittura quasi sul dischetto del rigore il vento vedete le immagini degli alberi allo stadio Cannarsa ha bloccato la corsa del Termoli che dovrà recuperare la partita con la Miternina ecco qui vedete la rete che anche si gonfia sotto le folate di vento poi c'è un tentativo dell'arbitro di verifica proprio della stabilità del pallone con la sfera eccolo qui l'arbitro che era il signor Cataldo di Bergamo che va a posizionare il pallone ma non si può giocare perché vedete come lo mette a terra in sostanza l'arbitro mette il pallone a terra appena lo lascia si sposta e quindi giusta la decisione di rinviare questa partita con le immagini siamo a Iesi trentanovesimo del primo tempo fallisce il raddoppio l'Olimpio agnonese torniamo un attimo dietro perché sul cross dalla destra c'è l'uscita abbastanza imprecisa del portiere della Iesina si tratta di Giovagnoli vedete che esce poi va a perdere il pallone non riesce a trattenerlo palla d'oro per Leonetti che arriva con la porta praticamente sguarnita ma il giovane attaccante dell'Olimpio agnonese vedete con il sinistro va a alzare eccessivamente la mira non centrando i pali avversari e dunque naturalmente analisi con la Moviola dobbiamo dire che chiedo ad Antonello abbiamo visto che con quel palo il campo basso di fatto ha legittimato la vittoria e a Termoli davvero non c'erano le condizioni per giocare assolutamente partendo da Termoli hanno fatto bene a rimbiare la partita perché non si non avremmo parlato di calcio quindi bene così per quanto riguarda il campo basso sono contento ovviamente che hanno strappato questa importantissima vittoria complimenti al giocatore che ha effettuato quel tiro perché quando il campo in quelle condizioni è sempre difficile trovare anche la coordinazione giusta perché spesso manca proprio va via proprio il piede d'appoggio quindi giocando in condizioni precarie riuscire ad avere pure dei colpi di ottima caratura tecnica va sempre lodato il giocatore forza campo basso continuiamo così forza campo basso forza tutte le squadre molisane naturalmente di serie D noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria e dunque dopo aver parlato di Lega Pro e naturalmente aver parlato della serie D ci spostiamo nel massimo campionato regionale possiamo dare subito un occhio alla classifica dato che i risultati li conosciamo ampiamente insomma va segnalata la bella vittoria del Fornelli sulla gioventù calcio d'auna dunque Fornelli che resta vicino al Boiano anche perché ha da recuperare una partita a Vasto Girardi Boiano che si è confermato da segnalare il passo falso della Turris contro il Vasto Girardi un passo falso che di fatto pregiudica al momento le ambizioni di Vetta e poi tolta naturalmente la Cerrese c'è una Maronea che ha il terzo risultato utile ma c'è davvero un gran gruppone che sta lottando per i play out ma torniamo su parliamo appunto di Fornelli gioventù calcio d'auna andiamo a sentire i commenti del posto gara il tecnico Coletta e il giocatore della gioventù calcio d'auna Granatiero Mister Coletta una vittoria assolutamente secca decisa Fornelli padrona di casa e padrona del campo contro gioventù d'auna Sì noi purtroppo c'è stata una squalifica anche oggi l'abbiamo sofferta un po' la partita però faccio un applauso a questa squadra veramente che si è comportata benissimo e abbiamo portato questa vittoria meritata Ma noi abbiamo notato invece che l'uscita di Ucci ha fatto veramente poca differenza sembravano comunque in dodici in campo Ma perché anche negli spogliatoi mi è venuto in mente subito il Boiano e in pratica questa è una cosa che ho detto subito non ripetiamo non ripetiamo la stessa partita cerchiamo di di essere di cacciare orgoglio di giocarci la partita fino alla fine e infatti siamo stati molto disciplinati e poi alla fine siamo usciti a fare altri gol complimenti alla squadra veramente Giuseppe Granatino una sconfitta pesante questa con il Fornelli ma che cosa è successo? Secondo me è stata una partita che è stata decisata dall'episodio appunto il primo gol sul rigore poi il secondo gol una ribattuta da calcio d'angolo e il terzo gol è stato anche un gran bel gol da parte loro niente gli episodi non ci sono andati bene quest'oggi ma di sicuro insomma vi ho visto ben organizzati in campo però mancavate un po' in attacco forse è mancata un po' di cattiveria un po' di lucidità sotto porta queste partite le devi chiudere contro una squadra sicuramente di livello che farà sicuramente bene in campionato speriamo per il proseguo del campionato di fare bene e continuare a fare bene ma anche perché insomma avete risalito la china abbastanza bene nel corso di queste ultime giornate abbiamo visto un periodo positivo che venivamo da otto risultati positivi purtroppo c'è stata questa battuta d'arresto ricominciamo una martedì e speriamo di riprendere questa stessa positiva che appunto ci consenta di raggiungere i nostri obiettivi e che bel gol appunto stavamo vedendo ha realizzato Pietro Cassaldi davvero anche lui un elemento in più chiedo ad Antonello di questo Fornelli che forse per gli addetti ai lavori per noi non è tanto una sorpresa però è sorprendente appunto la continuità di questa squadra che davvero può essere l'antiboiano sino alla fine in effetti sta disputando un ottimo campionato faccio i complimenti a Pietro Castaldi lo ricordo Juniores con la Polesiana sta confermando le sue qualità nel suo paese tornando a Fornelli sta disputando davvero un ottimo campionato e credo possa ambire tranquillamente alla vetta ha ottimi elementi in squadra già l'anno scorso soprattutto nella fase finale del campionato ha messo in mostra ottime qualità quest'anno non solo ha confermato la rosa dell'anno scorso ma l'ha rinforzata credo con ottimi tasselli laddove appunto mancava qualcosina credo che comunque in linea di massima il campionato secondo me non lo vince la squadra più forte ma lo vincerà la società più stabile visti i tempi che corrono credo che le società saranno un po' il termometro dell'intero campionato sia per quanto riguarda la parte alta del campionato della classifica playoff playout quindi tutto il campionato secondo me sarà deciso dalle sorti societarie nei vari paesi sperando che il Fornelli possa mantenere questo trend la tua osservazione infatti mi trova concorde perché naturalmente in un regime di equilibrio in campionato punto a punto poi chi ha la società più forte va avanti chiedo proprio a Roberto un Fornelli che in un programma triennale questo è il terzo anno soprattutto una squadra che in casa vince sempre se naturalmente togliamo la sconfitta tra virgolette casalinga contro il Boiano gara che si è giocata a Venafro con tutte le polemiche appunto del caso ma è una squadra che in casa impone il suo ritmo e vince sempre sì bisogna renderne atto a questa squadra che comunque in casa riesce a fare sempre degli ottimi risultati sicuramente sarà aiutata forse anche dal campo perché sono abituati a giocare su quel terreno di gioco con quelle misure sicuramente saranno avvantaggiati questo però sicuramente non è una scusa bisogna come dire premiare questi ragazzi perché effettivamente stanno avendo degli ottimi risultati anche se penso che comunque il Boiano vista la rosa ha qualcosa in più per poter vincere il campionato e noi ci spostiamo a Santa Croce dove è maturato un risultato abbastanza clamoroso sentiamo anche qui i pareri nel post gara di Turris Vasto Girardi mister Palazzo è arrivata una vittoria importantissima contro una Turris un match difficile però che avete portato a casa sì una partita difficile su un campo penso che uno dei campi più difficili della categoria che è una squadra buona che era in salute è una squadra difficile siamo contenti della nostra della nostra gara sapendo che oggi su questo campo si doveva soffrire e fare una buona gara per portare via dei punti penso che in grosso modo forse il parigio sarebbe stato anche un risultato più giusto però penso che per quello che abbiamo dimostrato in campo ci siamo difesi bene con ordine nella prima frazione di gioco siamo soddisfatti difesa con Diaco protagonista anche sul rigore parato a Maggi lì praticamente la vittoria era in pugno sì perché mancavano 7-8 minuti alla fine si è superato il nostro portiere ha fatto ha fatto dei buoni interventi siamo siamo contenti per lui che probabilmente ci lascerà per motivi di per motivi di lavoro Stefano Amoroso nel acquisto della Turris sconfitta contro un vasto Girardi agguerritissimo ma è stata una partita dura abbiamo cercato di dare il massimo e penso che si è visto anche in mezzo a campo siamo stati sfortunati sugli episodi ma penso che comunque abbiamo fatto la partita il tempo il vento gli episodi non ci hanno aiutato assolutamente purtroppo dobbiamo ripartire da questa sconfitta per cercare di recuperare i punti persi quest'oggi peccato anche per il rigore di Maggi parlato da Di Iaco lì non si poteva fare proprio niente purtroppo è stato anche bravo il portiere Maggi ha fatto il possibile per fare gol e purtroppo siamo stati sfortunati ti ripeto sono stati gli episodi oggi che ci hanno fatto perdere questi tre punti perché comunque anche a dimostrazione in mezzo al campo noi tecnicamente anche tatticamente stavamo messi meglio sono stati gli episodi che ci hanno condannato Beh, gli episodi dice naturalmente Stefano Amoroso nuovo acquisto della Turris ma io chiedo ad Antonello Palantoni insomma sì, gli episodi possono succedere una volta ma non si può perdere in casa con il Vasso Giardi se si hanno appunto ambioni di vetta il meno nove dal Boiano è quasi definitivo In effetti è un brutto passo falso in casa soprattutto dopo la riapertura delle liste la Turris aveva dimostrato con qualche acquisto di voler puntare decisamente alla risalita in classifica partire subito con il piede sbagliato e posizionarsi a meno nove dalla prima ma oltre la prima ce ne sono altre tre o quattro tre o quattro squadre se non sbaglio prima della Turris la vedo davvero dura ovviamente non per essere ripetitivo però voglio sempre soffermarmi stiamo affrontando il discorso tecnico tecnicamente la vedo dura recuperare nove punti al Boiano così come ad altre squadre ovviamente le condizioni societarie poi saranno secondo il mio secondo il mio parere saranno molto molto importanti e decisive perché se qualche squadra lì su dovesse venire meno parlo sempre dal punto di vista societario nove punti li recuperi con niente vedasi un po' la situazione dell'Isernia che potrebbe non fare più neanche un punto e non credo che in eccellenza ci possa essere qualche analogia però qualche brusca frenata qualche squadra la potrebbe registrare certo per quanto riguarda la Turris non è scusante perdere in casa col Vasto Girardi ci può stare la partita negativa però quando sei già dietro di nove punti non puoi più permetterti passi falsi e devi assolutamente recuperare adesso non dovranno mai più sbagliare da qui alla fine certo chiedo naturalmente a Roberto Barrea è una Turris che ogni anno programma quest'estate c'erano stati anche dei problemi sull'iscrizione poi squadra tra virgolette ripresa davvero dal presidente Florio una squadra che comunque parte sempre in sordina però poi si perde ad un certo punto della stagione è capitato così è una costante un po' degli ultimi anni sì facendo riferimento al campionato attuale io penso che questa sconfitta sia soltanto un caso conoscendo l'ambiente di Santa Croce io penso che loro non molleranno assolutamente fino alla fine anzi cercheranno di fare qualcosa in più anche a livello di mercato per essere ancora più competitivi e cercheranno di lottare fino alla fine sicuramente mister Castaldi sarà in grado di ricompattare il gruppo e ti ripeto penso che sia soltanto un passo passo passeggero secondo me faranno un ottimo campionato comunque e dunque noi ci spostiamo al Venditti dove si è giocata la gara tra il Gambatesa e l'Atletico Sessano vediamo le interviste Piero De Bellis allenatore dell'Atletico Sessano quanto rammarico c'è per un pareggio raggiunto all'ultimo minuti guarda il rammarico è tanto insomma anche per come è nato il gol del Gambatesa tant'è che poco prima sono stato allontanato dal campo dall'albitro proprio perché ho contestato questa punizione tantissimo c'era un evidente fallo su Fraraccio fischiato al contrario da lì la loro punizione Abbiamo visto la buona partita dei due nuovi acquisti che sono arrivati in settimana Federico Di Lallo e Inno beh possiamo dire la mancanza di 40 per infortunio ma soprattutto si è finita anche la mancanza di Perrella lì in attacco uno che ne ha fatti tanti di gollo fin qui Sì è quello che dicevo poco prima abbiamo avuto una settimana abbastanza tribolata per alcune decisioni societarie purtroppo abbiamo dovuto rinunciare ad uno degli attaccanti che nel corso degli anni ci ha garantito un bel bottino di gol abbiamo rimpiazzato con dei ragazzi perché la politica è quella giovanile due ottimi ragazzi devo dire Federico Di Lallo e Inno che è comunque un ragazzo che ho da tempo per cui un ritorno non è insomma un arrivo Fabrizio Polsella l'autore dello splendido gol del pareggio del Gambatesa una buona gara che sarebbe stato un peccato se non finiva in parità Sì sì diciamo che alla fine il pareggio è il risultato più giusto perché il secondo tempo abbiamo giocato meglio noi il primo tempo meglio loro quindi alla fine vedendo tutti e due tempi penso che l'X è il risultato più giusto era importante tornare a fare punti dopo un periodo un po' negativo con qualche sconfitta di troppo sì sicuramente però abbiamo avuto sconfitte con Boiano 19-19 e Sesto Campano che alla fine ci potevano anche stare voglio dire e dunque Fabrizio Porzella è andato a realizzare un altro bellissimo gol dicevamo naturalmente durante le interviste dico a Roberto Barrea un giocatore dotato di colpi davvero eccezionali che sta facendo davvero le fortune del Gambatesa giocatore importante per la categoria veramente un nome da segnare su ogni tacquino io penso che Fabrizio sia sprecato per questa categoria soprattutto è stato sfortunato nella sua carriera perché secondo me poteva fare molto di più però per adesso è così gli auguro tutto il bene del mondo e penso che farà come al solito un ottimo campionato e raggiungerà almeno i 20 gol come fa ogni anno e noi ci spostiamo a Venafro dove si è giocata Venafro Montenero anche qui le interviste del post partita mister che ha aperto la serie positiva del Venafro e poi è stata una partita a rincorrere la vostra sì sicuramente come dice lei io però oggi nel primo tempo potevamo fare siamo arrivati parecchie volte vicino al portiere siamo arrivati alla conclusione non siamo stati bravi dobbiamo essere più cinici davanti ma soprattutto dobbiamo stare più attenti dietro certi errori non si possono commettere soprattutto in eccellenza mister De Santis dopo la vittoria della scorsa settimana un'altra vittoria contro il Montenero si cominciano a fare questi punti importanti per il Venafro sì diciamo che la seconda volta che riesco a mettere una squadra priva di 96 in campo e questo si vede purtroppo la prima parte del campionato l'abbiamo giocata con ragazzini con giocatori veramente troppo giovani adesso pian piano stiamo venendo fuori grazie anche alla determinazione dei ragazzi che vogliono salvarsi a tutti i costi oggi non è stata un'ottima prestazione da parte nostra però siamo stati bravi comunque a portare a casa il risultato rientriamo naturalmente dopo queste interviste uno sguardo alla classifica d'eccellenza per dare un occhio appunto a questa zona play out che praticamente condiziona tutti partendo dal Gambatese anche se il Gambatese insomma ha già 21 punti è un buon margine chiedo ad Antonello insomma il solito gruppone che si sta delineando quest'anno forse più che mai in un regime di equilibrio e di abbassamento di livello come abbiamo detto spesso diciamo che tranne la Cerrese e la Maronea che registrano un ritardo consistente credo che tutte le altre fino al Gambatese possono ritenersi diciamo così coinvolte nel discorso salvezza ovviamente il Gambatese a qualche punto in più che farà pesare alla fine della stagione mancano credo 14 punti a loro per la salvezza ipoteticamente 35 dovresti essere salvo credo più o meno vedendo un po' la media dei punti 35 credo che potresti scampare per i play out per il resto come ogni anno ci sono quelle 6-7 squadre che lottano per per la salvezza il Venafro negli ultimi settimane ha messo a segno un paio di risultati importanti contro le dirette concorrenti infatti si ha riagganciato il gruppone l'importante è stare lì poi in primavera si vedrà chi riuscirà ad avere qualcosina in più per tirarsi fuori l'importante è rimanere agganciato al gruppone e non staccarsi come purtroppo sta succedendo alla Maronea e alla Cerrese ecco una pensavo appunto una riflessione gli anni scorsi il campionato d'eccellenza viveva di fatto a dicembre per molte società un cambio netto totale rispetto a quelli che erano stati i mesi precedenti quest'anno sì qualcuno si è ritoccato un attaccante un centrocampista però Roberto sostanzialmente non ci sono stati quelli stravolgimenti oppure addirittura c'è anche chi ha tagliato le spese d'inizio anno questo rientra anche di più in questo regime di austerity e di momento difficile sì certo perché come si diceva prima non ci sono grosse possibilità economiche per allestire o rimodellare la squadra però posso dirti che chi sa fare mercato in maniera oculata anche con un acquisto con due acquisti può sicuramente far migliorare di molto la squadra prendendo giocatori giusti da mettere al posto giusto infatti è così perché ricordavo proprio l'anno scorso la Virtus Boiano cambiò completamente la squadra poi alla fine ci fu la retrocessione e poi addirittura la non iscrizione per la squadra di Boiano noi chiudiamo con le interviste di eccellenza con l'ultima partita quella tra il Rocca Ravindola e la Maronea con il disco mister della Maronea un pareggio importantissimo per cercare questa salvezza a disperata sì stiamo cercando di dare un po' di continuità ai risultati e per fortuna anche oggi abbiamo raccolto un punto forse meritavamo anche qualcosa in più perché eravamo partiti bene la prima occasione sul calcio d'angolo la nostra distrazione abbiamo preso gol poi siamo stati bravi a non disunirci a cercare comunque di rimettere la partita sui binari giusti abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Contigiani che è stato fermato dal portiere poi il rigore secondo me c'era quindi un pareggio meritato nel secondo tempo abbiamo avuto due oltre occasioni per passare in vantaggio però purtroppo non siamo stati sufficientemente cattivi abbiamo tirato con poca forza con poca determinazione il loro portiere è stato bravo in due occasioni e quindi credo che il risultato sia giusto anche se c'è un pizzico di rammarico perché forse potevamo fare qualcosina in più Pasquale Castaldi presidente del Rocca Ravindola un pareggio che ci stava peccato per il rigore preso sì peccato per il rigore preso ma io direi più peccato per il rigore non dato al primo tempo perché è stato anche clamoroso perché c'è stata una spinta evidentissima su Pittiglio diciamo che quest'anno non siamo molto fortunati con i calci di rigore perché ne abbiamo presi più di dieci dall'inizio del campionato tra campionato e coppa e molti di questi erano anche molto dubbi oggi francamente poteva starci però ci stava secondo me molto più netto anche quello a favore nostro però al di là di questo non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite merito anche dalla Marronea che è una buona squadra secondo me non merita la classifica che occupa noi eravamo anche mancanti diverse pedine importanti perché gente come Fruggiero e Cambio non si possono regalare a nessun avversario poi abbiamo perso anche Sisti che è il nostro giocatore che dà più dinamicità più sprint in attacco alla fine del primo tempo perché ha avuto un problema muscolare e diciamo che in questa emergenza tutto sommato la squadra si è anche comportata bene però con questo vendo in questo tempaccio non era nemmeno facile di giocare francamente dunque abbiamo sentito anche le opinioni di questa gara tra Rocca Lavindo e la Marronea appunto due squadre impegnate nella notta salvezza noi ci fermiamo per la seconda sosta pubblicitaria non abbandonateci torniamo in studio terza ed ultima parte può andare in onda la nostra Moviola la seconda parte della Moviola proprio sul massimo campionato regionale Campionato d'eccellenza siamo a Santa Croce di Magliano calcio di rigore per il Vasto Girardi vediamo andiamo proprio un attimo dietro perché il giocatore della Turris si tratta di Longo era in vantaggio su Amicone ancora un attimo dietro vedete era in chiaro vantaggio eccolo qui vedete potrebbe spazzare potrebbe fare quello che vuole invece sbaglia il controllo Amicone lo beffa perché gli ruba la sfera eccolo qui e Longo va proprio andiamo un attimo dietro va con la schiena sulle gambe di Amicone eccolo qui il momento prontamente inquadrato dal nostro regista Donato Mignogna vedete ci sono tutti gli estremi per il calcio di rigore dato concesso dal signor Monaco di Termoli e poi trasformato dallo stesso Amicone qui siamo a Gamba Tesa all'undicesimo del secondo tempo lancio per Fraraccio andiamo un attimo dietro che scatta in posizione regolare sul filo del fuorigioco perché l'arbitro e i suoi collaboratori fanno continuare poi Fraraccio ecco qui esce anche il portiere del Gamba Tesa Fraraccio invece di servire al centro al suo compagno qui inquadrato con la maglia numero 11 prova il pallonetto ma è una decisione assolutamente sciagurata perché vedete il pallone che fila fianco al palo e quindi Fraraccio sciupa la più ghiotte delle opportunità per segnare ancora qui siamo a Fornelli entra in area Consolazio con la maglia bianco-verde si avvicina il numero 8 si tratta di Monte della gioventù Dauna ecco avviciniamoci perché si vede nettamente il fallo il piede destro di Monte sul piede destro di Consolazio vedete eccolo qui e quindi ci sono tutti gli estremi per il calcio di rigore giustamente concesso dal signor Calvarese di Termoli poi trasformato dallo stesso Consolazio qui siamo a Benafro vorremmo vedere che cosa ha visto l'arbitro Colucci di Campobasso perché vedete Vallone il numero 11 in maglia nera che va a segnare ma il gol sarà annullato perché andiamo un attimo dietro vedete intanto il gol di Vallone ma il gol è stato annullato perché secondo l'arbitro Patriciello il giocatore con la maglia nera vedete va in contrasto con Pezzotta ma non commette assolutamente fallo vedete Patriciello che sposta il pallone poi cade perché probabilmente c'era un fallo proprio del giocatore del Montenero fatto sta che l'arbitro ha ritenuto che poi il gol di Vallone dovesse essere annullato a noi sembra francamente che l'arbitro abbia sbagliato a Roccaravindola rigore chiesto dal Roccaravindola seguiamo l'inserimento di Pittiglio vedete il giocatore con la maglia blu ma torniamo un attimo dietro perché Pittiglio praticamente non subisce fallo da parte del giocatore della Maronea che vedete non commette fallo Pittiglio cade da solo qui non c'è assolutamente rigore il signor Scardera di Termoli avrebbe dovuto ammonire il giocatore del Roccaravindola per simulazione sempre nella stessa partita invece c'è tutto il rigore concesso alla Maronea perché vedete in area Contigiani alle sue spalle Fusco che gli tira la maglietta vedete lo tira proprio giù e quindi calcio di rigore netto questa volta il signor Scardera ha visto bene perché infatti ha concesso il calcio di rigore poi trasformato dallo stesso Contigiani campionato di promozione rigore concesso al comprensero Vairano a Ripalimosani torniamo un attimo dietro avviciniamoci anche con la lente di ingrandimento perché Simonetti giocatore con la maglia arancione vedete non tocca nemmeno l'attaccante del Vairano Squillacciotti quindi questo è un calcio di rigore letteralmente inventato dal signor De Michele di Termoli qui andava Ammonito Squillacciotti per simulazione La Moviola Ebbè rivedendo appunto quest'ultimo episodio devo dire al nostro amico amico di Telemolise Enzo Bentivoglio che effettivamente il rigore dato al comprensero Vairano era assolutamente inesistente Roberto Barrea si vedono comunque questi errori naturalmente ci stanno per carità è giusto che sia così li vediamo in Serie A dunque può succedere anche nel campionato di eccellenza e nel campionato di promozione però poi lì per lì chi gioca gli allenatori si arrabbiano e questo è un po' nello spirito del calcio ma questo ci sta assolutamente poi naturalmente chi se la prende deve far sbollire gli animi questo ci sta nel calcio purtroppo rode ancora di più se l'errore arbitrale poi è decisivo però gli arbitri fanno parte del gioco speriamo che anche la classe arbitrale poi cresca di pari passo con il movimento calcistico ed ecco diamo un occhio appunto lo spunto del Ripalimosani al campionato di promozione alla classifica subito prontamente accolta la nostra richiesta con il Roseto vedete che è in testa a quota 29 c'è il campo di Pietra che comunque ha da recuperare una gara se non mi sbaglio mi sembra anche due dunque se non vado errato poi c'è questa sorta di equilibrio generale se poi togliamo giusto proprio le ultime posizioni proprio ad Antonello vedete il Casalericcia quota 19 punti di fatto ha un paio di punti dalla zona playoff ma anche ha tre punti in più sopra i play out tu mi insegni guardare avanti ma dare anche un occhio dietro perché questo è un campionato molto particolare tre vittorie sei su due sconfitte e ti ritrovi in zona play out ma è solo che da qualche settimana che si è delineata un po' meglio la classifica perché fino a due o tre settimane fa davvero tra la penultima e la prima c'erano siano dieci punti di distanza quindi questo va a confermare l'equilibrio del campionato con un filotto di risultati positivi ti ritrovi su ma puoi ritrovarti nei bassi fondi con un nulla anche noi sembra che avevamo fatto di sa che cosa con quattro vittorie invece ci ritroviamo con un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate fuori dai play off e siamo proprio lì a mezza classifica adesso bisogna restare uniti e restare aggrappati al gruppo delle primissime perché poi a primavera si vedrà chi corre di più ed ecco appunto mi hai offerto un assist davvero geniale per tirare in causa Roberto Barrea che è un preparatore atletico naturalmente proprio la benzina come si dice dei mesi primaverili è importante tu come abbiamo detto adesso non sei più sei libero diciamo non sei più con l'Isernia hai avuto esperienze importanti possiamo dire che sei sul mercato e possiamo garantire sicuramente anche un'ottima professionalità da parte tua questo lo dico io ma io ti ringrazio per questa sviolinata prima scherzando con l'Antonello dicevo che sono in cassa integrazione attualmente no vabbè sono libero sì perché comunque con l'Isernia è andata a finire in questo modo aspetto una chiamata magari da qualche società che abbia delle buone prospettive però di certo non non mi dispiace rimanere così anche a guardare un po' intorno cosa succede e a prepararmi poi successivamente per la stagione prossima ed è anche un momento questo importante tra virgolette perché come abbiamo visto iniziano i vari disagi con i campi naturalmente eccellenza e promozione si è giocato promozione di meno perché effettivamente quattro gare rinviate sono tante ma nei campi di prima seconda categoria si è giocato pochissimo e ti chiedo questo è un momento questo che poi seguirà i mesi di gennaio e febbraio l'anno scorso poi ci fu l'apoteosi addirittura con tre domeniche di stop dei campionati è un momento in cui è anche poi difficile andare a programmare quella preparazione atletica per il campionato perché effettivamente non sai poi se e quando giochi sì sicuramente questo fa parte del gioco fa parte anche della bellezza della preparazione atletica cioè riuscire a capire il lavoro da fare in determinati momenti e saper variare nei momenti giusti la preparazione saper mettere in campo qualcosa di diverso da quello che si era programmato vuoi per diverse cause per il clima per infortuni e così via comunque penso che chi ha lavorato bene si vede si vede soprattutto su questi campi pesanti sai a volte al di là del fatto di lavorare bene c'è anche una grossa carenza di strutture quindi a volte le società non sanno neanche dove far allenare i ragazzi perché casomai sul campo c'è la neve o il campo è troppo pesante è ghiacciato questi sono problemi da tenere in considerazione quindi le società più attrezzate se riescono ad avere anche un buon preparatore atletico che sappia far lavorare i ragazzi in un determinato modo sicuramente sono avvantaggiate e appunto parlavi di impianti mi viene naturalmente da pensare all'impianto nuovissimo del Casalericcia un impianto all'avanguardia Antonello che vi permette comunque di allenarvi bene di giocare sempre a pallone anche se poi noi abbiamo fatto poi tutti alla fine il settore giovanile soprattutto voi sui campi in terra dunque poi a volte si tirano un po' di scuse ma è il campo però è sempre più bello giocare su un campo sintetico ma assolutamente sicuramente si gioca molto meglio su un campo sintetico però siamo nati sui campi in terra quindi perché 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 rigettarli a questo punto è normale che poi quando ci si abitua da diversi anni ai campi ai terreni di gioco migliori quelle partite che affronti tu sul campo in terra ovviamente ti lamenti fa parte del gioco domenica ieri per noi è stato un esempio lampante siamo andati a giocare ad Arife non abituati a quel terreno di gioco per me è stato quasi un ritorno al passato quindi tanto male non mi sono trovato perché voglio dire ci ho giocato tanti anni si cambia in terra certo giocare sul sintetico è tutta altra storia per quanto riguarda il Casale Riccia c'è una struttura nuovissima è un po' il ferro all'occhiello di tutta la società non lo scopro di certo io chiunque viene lì resta a bocca aperta perché non solo l'impianto il terreno di gioco ma anche tutta la struttura spogliato di tribuna è davvero molto accogliente si sta davvero bene e dunque possiamo dire che abbiamo detto tutto in questa puntata di Molisea Calci dalla Lega Pro alla promozione io ringrazio Roberto Barrea va un saluto anche a tua moglie alla tua bellissima figlia Sara un ringraziamento naturalmente anche ad Antonello Palantonio alle fortune naturalmente del Casale Riccia io ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito in questa puntata di Molisea Calci buon proseguimento con le trasmissioni di Telemolise Molisea Calci in collaborazione con Design Stile e Comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo uscita a Civitanova del Sannio L&T Insurance Broker SRL Via Monsignor Bologna 56 Campobasso Broker di assicurazioni Grazie a tutti